Sui giornali spopola il Qatargate, lo scandalo corruzione che sta investendo i vertici dell'Unione Europea, in cui sono coinvolti anche diversi italiani. Intanto, secondo il Financial Times e il Washington Post, riprisi dai giornali di Mezzomondo, oggi il Dipartimento per l'Energia americano farà un importante annuncio sull'energia nucleare, anzi sulla fusione nucleare per l'esattezza. Parliamo anche dell'esodo da Cuba e della complicatissima situazione in Perù. Io sono Andrea Dell'Innocenti, oggi è il 13 dicembre 2022 e questo è No Mi Rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Ne avrete sentito certamente parlare negli ultimi due giorni e allora è il caso che ne parliamo anche un po' qui per spiegare cosa sta succedendo. C'è una notizia che sta girando molto sui giornali, nota come Qatargate, ed è uno scandalo corruzione che riguarda alcune personalità di rilievo all'interno o molto vicine alle istituzioni europee che sarebbero state corrotte dalle autorità del Qatar, ma non solo, anche da quelle del Marocco, per parlare bene o influenzare certe votazioni che riguardano appunto il paese che sta ospitando i mondiali di calcio all'interno del Parlamento europeo. Ora, io lo so che voi vi starete chiedendo, ma perché tutti questi scandali si chiamano gate, il sex gate di Clinton, il cable gate di Assange, il pizza gate, insomma sono tutti gate e se non ve lo state chiedendo, pazienza, non posso saperlo in tempo reale, quindi ve lo dico lo stesso. Fatto sta che è un'usanza del giornalismo di associare ormai il suffisso gate a uno scandalo, anche se in realtà non c'è nessun legame con il significato della parola in inglese, che significa porta, ma questo legame arriva invece dallo scandalo Watergate, che è quello che condusse le dimissioni del presidente Richard Nixon, perché questo scandalo nacque quando dei partecipanti, quando gli artefici del complotto vennero arrestati per essersi introdotti negli uffici del Partito Democratico che erano ospitati dall'hotel Watergate appunto. E quindi così poi da allora per convenzione tutti gli scandali si prendono questo suffisso gate in fondo, anche se non ce n'è effettivamente una ragione semantica. Così, questo era giusto per darvi un aneddoto bonus da raccontare ai colleghi di ufficio. Comunque, tornando al Qatar in Italia, se ne sta parlando molto perché ci sono vari personaggi italiani coinvolti nella vicenda. Allora, la premessa di tutto ciò, il quadro in cui si inserisce questo scandalo, è che da anni il Qatar, ma appunto come vedremo anche il Marocco, sta cercando di rifarsi l'immagine a livello internazionale e quindi di venire percepito come uno stato moderno, dalle fiorenti relazioni internazionali, anche l'idea di organizzare i mondiali viene un po' da questa strategia, solo che c'è un problema in questa operazione, il problema è che la sua immagine rischia costantemente di essere sporcata da alcuni dettagli non esattamente indifferenti. Scrive ad esempio un articolo del post, il Qatar ha da anni un grosso problema di immagine soprattutto in occidente per via delle sistemiche violazioni dei diritti umani che compie soprattutto sui lavoratori migranti che hanno costruito grattacieli e stadi per i mondiali, ma anche per le molte accuse di corruzioni, gli accordi controversi con altri stati con l'obiettivo di guadagnare influenza a livello internazionale e così via. Perciò la procura federale belga sospetta che il Qatar abbia coinvolto diverse persone del Parlamento europeo che avevano una credibilità sui diritti dei lavoratori, ex sindacalisti o comunque appartenenti al centro-sinistra, per migliorare la propria immagine nelle istituzioni europee e di riflesso in occidente. Ma vediamo meglio un po' più nel dettaglio cosa è successo e chi sono queste persone coinvolte nelle parole di Federica Bianchi sull'Espresso. La parola Qatar, scrive, è diventata tossica a Bruxelles. Tutto ciò che la riguarda è ormai visto con paura perché è proprio intorno al Qatar e a questi campionati mondiali che da venerdì sera si sta svolgendo la matassa del più grande scandalo che abbia mai riguardato l'Europarlamento. Il quotidiano belga Lesoir l'aveva definito sabato uno scandalo italiano visto che il perno di questa storia di corruzione parlamentare è l'ex deputato del PD Pier Antonio Panzeri che a Bruxelles continuava a vivere e lavorare aiutato nei suoi affari dalla famiglia. Ma il giorno dopo la realtà si è dimostrata molto più complessa, coinvolge anche i cittadini belgi e non escluderà ulteriori colpi di scena. Praticamente sembra che la polizia belga lavorasse da diversi mesi, almeno tre mesi, anzi da luglio quindi ben più di tre mesi, almeno cinque mesi, a una serie di intercettazioni che hanno infine portato a scoprire un'organizzazione criminale volta a influenzare il voto del Parlamento europeo a vantaggio appunto degli stati committenti che sarebbero il Qatar e il Marocco, anche se poi il Qatar sembra avere un ruolo un po' più centrale in questa storia, ma comunque sembra importante anche la presenza del Marocco, in cambio di ingenti, somme di denaro e regali. Il cervello dell'operazione è appunto Panzeri, europarlamentare dal 2004 al 2019, attivista per i diritti umani e oggi leader di Fight Impunity, una ONG che sembra sempre di più una sorta di copertura per alcune attività a scopi fortemente personali. Ad esempio l'Espresso ha contattato Emma Bonino che ha detto di far parte, anzi che faceva parte dell'advisory board di Fight Impunity, ma che non è mai stata consultata, il board non è mai stato convocato, è una sorta di vetrina per il web e la conferma è arrivata anche dall'ex alta rappresentante Federica Mogherini e dall'ex commissario greco Dimitrios Avramolopoulos che sono entrambi immediatamente rimessi dal board dicendo che effettivamente non avevano avuto mai nulla a che fare concretamente con l'organizzazione. Ovviamente qui è da capire se è solo un modo di ripulirsi l'immagine immediatamente, anzi nel mezzo dello scandalo o se effettivamente, come sembra le prime indagini dell'Espresso, avessero solo un ruolo di facciata e avessero accettato così per le relazioni personali di stare all'interno di quel board che poi non faceva oggettivamente niente. Comunque sembrano essere, come spiega l'articolo, molte di più, molte altre persone coinvolte che arrivano anche ai vertici del loro Parlamento. Ad esempio sembra che un altro ruolo abbastanza centrale nella situazione lo abbia giocato una delle vicepresidenti del Parlamento Europeo, ce ne sono in tutto 14, Eva Caili, ex giornalista televisiva, compagna di Francesco Giorgio che ha a lungo lavorato con lo stesso Panzeri. Che è successo? È successo che il padre di Caili è stato fermato con un trolley con dentro 600 mila euro in banconote da 50 e poi sia lei che il compagno sono stati arrestati avendo trovato anche dentro casa loro altri 150 mila euro oltre a oggetti di valore provenienti dal Qatar. E fra l'altro in questo caso essendo stati arrestati in flagranza di reato non vale l'immunità parlamentare a cui altrimenti sarebbe potuta appellare Eva Caili. Caili è stata immediatamente dimessa dalla sua carica dalla Presidente dell'Eurocamera Roberta Mezzola che apparentemente sapeva già dell'inchiesta da tempo ed è stata sospesa sia dal partito socialista greco sia dal gruppo socialista europeo. Sabato mattina però lo scandalo si è ulteriormente allargato e ad esempio pare che siano coinvolti anche l'eurodeputato belga di origine italiana Mark Tarabella che si proclama innocente ma il cui ufficio è stato ispezionato e messo sotto sequestro durante la partita Francia-Inghilterra. Tra l'altro in quell'occasione è stata fatta tornare la Presidente dell'Europarlamento Mezzola per poter eseguire la perquisizione perché la sua presenza era necessaria in assenza di flagranza di reato. E ancora poi altri eurodeputati che escono, i cui nomi escono emergono via via, l'Espresso prova a seguire fra l'altro come pista le posizioni dei parlamentari nelle votazioni ad esempio sulla questione dei rispetti dei diritti umani in Qatar e sono diversi deputati che partiti da posizioni molto dure si sono via via ammorbidite sostenendo che la monarchia catarina stava facendo grandi progressi e aveva bisogno di incoraggiamenti e non di accuse. Cambiamenti che quindi sembrano sospetti alla luce di questi nuovi fatti anche se è vero che non possiamo fare affidamento solo su questo aspetto in assenza di prove vale ovviamente la presunzione di innocenza come quadro generale. Oltre ai parlamentari europei però sono indagati e apparentemente coinvolti in varie forme molti assistenti parlamentari e anche figure al di fuori del parlamento nel mondo delle ONG ad esempio oltre a Panzeri e alla sua ONG Fighting Punity ci sarebbe fra gli arrestati Niccolò Figa Talamanca segretario delle ONG No Peace Without Justice romano esperto di politica nordafricana e medio orientale la cui organizzazione ha lo stesso indirizzo della ONG di Panzeri Fighting Punity e il quale sarebbe stato avvicinato dalle autorità del Qatar per promuovere l'immagine dei progressi nel campo della tutela dei diritti umani. Insomma è una storia abbastanza oscura, abbastanza complessa di cui però per adesso conosciamo solo alcuni dettagli che sono quelli che più o meno vi ho espresso, vi ho spiegato. Tra l'altro ci sono indagini in corso e la procura di Bruxelles sta facendo trappellare a quanto pare poche informazioni per tutelare proprio la distrivatezza delle indagini e questa cosa ovviamente ha delle ripercussioni dal punto di vista delle informazioni nel senso che non sappiamo esattamente cosa sta succedendo e come stanno le cose se non appunto quelle che vi ho condiviso. Detto ciò ho come la sensazione che di questa storia continueremo a sentir parlare per diversi giorni o forse persino settimane. Va bene cambiamo argomento, domenica sera è arrivata un'indiscrezione abbastanza grossa su un tema centrale ovvero la fusione nucleare. In pratica il Financial Times e il Washington Post sostengono che oggi martedì 13 dicembre il Dipartimento dell'Energia statunitense farà un grosso annuncio legato alla fusione nucleare che per la prima volta avrebbe, parrebbe aver dato un bilancio energetico positivo. Tuttavia come scrive Luca Fraioli su Repubblica è difficile nonostante gli sforzi dei reporter andare oltre due punti fermi. Il primo è che per la prima volta nella storia di questi esperimenti una reazione di fusione avrebbe prodotto più energia di quella usata per innescarla. Il secondo elemento certo è che la scoperta è avvenuta presso la National Ignition Facility ospitata nei Lawrence Livermore National Laboratory in California. Alcuni ricercatori che sono stati interpellati da Washington Post e dal Financial Times hanno confermato queste anticipazioni però solo dietro anonimato perché c'è stata una rigorosa consegna del silenzio in attesa che domani la segretaria dell'Energia Jennifer Granholm sveli al mondo una grande svolta scientifica così è stata preannunciata. Punto questa è la notizia non sappiamo altro domani sicuramente ne parleremo più a fondo con tutti i dettagli che se la cosa è confermata emergeranno però giusto due parole su che cos'è la fusione nucleare perché non è detto che sia un concetto chiaro a molti. La fusione nucleare è un meccanismo che riproduce all'incirca il funzionamento di una stella in cui quindi gli atomi vengono compressi assieme fino a fondersi per via della enorme pressione. Molti la confondono con la fissione nucleare che è la tecnologia invece che viene attualmente già usata nelle centrali nucleari o negli ordini nucleari ma si tratta di due metodi praticamente opposti perché appunto nella fissione noi bombardiamo degli atomi pesanti tipo quelli di uranio per spaccarne il nucleo e creare atomi più leggeri. Nella fusione invece avviene l'esatto contrario quindi si parte da due atomi di idrogeno quindi quelli più leggeri che esistano e se ne ottiene uno di elio. La cosa interessante è che si tratta di un sistema che è molto più sicuro rispetto alla fissione perché genera meno minori radiazioni e scole più facili da gestire. È una roba con cui tendenzialmente non si possono fare ordigni perché non esplode perché appunto si comprime si unisce non si spacca e i combustibili usati che sono deuterio e trizio due isotopi dell'idrogeno sono relativamente più facili da ottenere rispetto all'uranio quindi ha diversi vantaggi e potrebbe essere una roba interessante. Il problema principale fin qui però è che è un processo estremamente instabile che è molto difficile sia da innescare perché richiede tanta energia che da appunto stabilizzare. Questo perché a differenza del nucleo delle stelle dove il processo e la fusione avviene per via dell'enorme pressione esercitata dalla massa circostante per via della gravità della massa circostante nella fusione generata dall'uomo la pressione deve essere applicata in maniera artificiale e quindi dobbiamo inventarci dei modi per innescare questo processo e mantenerlo stabile attraverso appunto una pressione che non è per forza di cose quella generata dalla stessa massa e quindi si usano vari modi ad esempio c'è chi lo fa attraverso un campo magnetico potentissimo che però ha bisogno di temperature vicino allo zero assoluto per funzionare mentre lì accanto durante la fusione si sviluppano temperature di milioni di gradi quindi pensate a tenere assieme queste due robe o insomma altri modi altrettanto complessi. Ciò ha fatto sì che finora gli esperimenti abbiano abbastanza frustrato le aspettative degli studiosi che erano riusciti ormai da diversi anni a innescare la fusione ma impiegando per ottenerla molta più energia di quanto poi ne rilasciasse la reazione stessa. Ora le indiscrezioni dicono appunto che pare sia stata superata questa soglia ovvero a fronte dei 2,1 mega joule di energia laser in questo caso la fusione veniva indotta attraverso un bombardamento laser che riscaldava un meccanismo che non sono in grado di spiegare e che non ho neanche le competenze per capire in maniera tecnica. Fatto sta che questa energia laser fornita in ingresso era di 2,1 mega joule mentre quella generata dai neutroni prodotti era fra i 2,4 e i 3 mega joule e il che rende per la prima volta la reazione conveniente dal punto di vista energetico. L'eroe diciamo il ritorno sull'investimento energetico positivo più o meno in realtà non è esattamente così perché come spiega ancora Fraioli sul Repubblica l'energia totale fornita alla macchina è molta di più rispetto ai 2,1 mega joule che poi i laser riescono a concentrare sul bersaglio. Solo quando il bilancio energetico complessivo sarà positivo questo tipo di fusione potrà essere trasfermata da esperimento di laboratorio a dispositivo per la produzione di energia elettrica. Oggi comunque come vi anticipavo ne sapremo molto di più e credo che domani ne riparleremo ancora più approfonditamente. Se le attese fossero rispettate ecco questa potrebbe essere una novità interessante niente che sia pronto per essere usato domani o possa realisticamente toglierci dall'impaccio della transizione energetica adesso quindi avremo comunque bisogno di un sacco di energie rinnovabili ma un potenziale alleato, un game changer interessante magari da qui a vent'anni ecco chi lo sa. Ci spostiamo a Cuba dove una terribile crisi economica sta generando il peggiore esodo dall'isola dai tempi della rivoluzione. Inviato all'Havana del manifesto Roberto Livi descrive così la situazione dell'isola. L'esodo è dovuto alla drammatica crisi economica che attraversa Cuba a causa di fattori che vanno dallo strangolamento economico finanziario commerciale attuato da Donald Trump nei quattro anni della sua presidenza negli Stati Uniti agli effetti della pandemia di Covid-19 aggravate in seguito alla guerra in Ucraina ma anche ad una serie di error di politica economica del governo cubano che in pratica ha messo in piedi una struttura deformata dagli investimenti pubblici. Tra gennaio e settembre di quest'anno nel settore della costruzione di hotel e infrastrutture turistiche sono stati investiti 15.832 milioni di pesos il 33,5 per cento del budget mentre nel settore dell'agricoltura, allevamento, silvicoltura sono stati investiti 1.218 milioni di pesos circa il 2,6 per cento del budget. Uguale percentuale è stata investita nel settore della salute e assistenza pubblica mentre l'educazione ha superato di poco l'un per cento degli investimenti. Le conseguenze sono appunto le grandi difficoltà quotidiane che hanno i cittadini cubani nel procurarsi bene di prima necessità, incluse le medicine e nell'affrontare un'inflazione che sembra in questo momento davvero difficile da placare mentre si susseguono i blackout programmati per far fronte al deficit di produzione di energia elettrica. In questa situazione si inquadrano le nuove, recenti, grandi manifestazioni di malcontento generalizzato per i prezzi che si mangiano in salario e forse il fattore più preoccupante la proporzione che ha raggiunto il flusso migratorio all'estero perché nell'ultimo anno, appunto spiega l'articolo, è stato calcolato che 225 mila persone hanno abbandonato l'isola su una popolazione di circa 11 milioni di abitanti, quindi parliamo di più o meno il 2% della popolazione dell'intera isola che abbandona la propria abitazione e il proprio paese nel giro di un solo anno. L'ipotesi di uscire dal paese per trovare una soluzione alla propria vita è espressa da molti giovani, scrive ancora l'articolo sul manifesto, soprattutto nella capitale dove il tasso di astensione alle municipali sommato a schede bianche e voti annullati ha sfiorato il 50% degli aventi diritti. L'articolo poi si concentra molto sul tasso di astensione alto che si è verificato in queste ultime elezioni amministrative che si sono ottenute pochi giorni fa, che è sicuramente un altro aspetto interessante, ma quello che mi ha abbastanza colpito è effettivamente questo grande, vero e proprio esodo che si sta manifestando, si sta verificando sull'isola. Isola dove fra l'altro già lo scorso anno c'erano stati dei segnali importanti di malcontento perché c'erano state le più grandi manifestazioni di piazza degli ultimi 30 anni. Quindi Cuba sembra sempre più instabile in questo momento e dà segnali importanti di cedimento sociale. Quindi mi sembra interessante anche qui magari approfondire, ditemi ad esempio se volete una puntata dedicata su Cuba potrebbe essere un argomento interessante da approfondire. Fatemelo sapere semmai scrivendolo sui commenti su YouTube o con un messaggio diretto in qualche forma. Torniamo per ultimo a parlare di Perù perché ci sono un po' di aggiornamenti. La nuova presidente del Perù, Dina Baluarte, ha annunciato in un discorso televisivo nazionale che invierà al congresso una proposta per anticipare le elezioni generali di due anni, quindi all'aprile 2024, sulla scia delle proteste molto diffuse in tutto il paese. La sua decisione in particolare arriva dopo che due giovani sono morti e quattro sono rimasti feriti durante le proteste di domenica che chiedevano le elezioni dopo la destruzione dell'ex presidente Pedro Castiglio per il suo tentativo di sciogliere il congresso. Leggo dal Guardian, un quindicenne e un diciottenne sono morti probabilmente a causa di ferite d'arma da fuoco durante gli scontri con la polizia di domenica nella città di Andahuaylas, nella regione andina del ApriMac. Ha dichiarato il capo dell'ufficio del difensore civico del Perù, Eliana Revoiar, alla radio locale RPP. Migliaia di manifestanti sono scesi di nuovo in piazza domenica in tutto il paese, tra cui centinaia a Lima, la capitale dove la polizia antisommossa ha usato gas lacrimogeni per respingere i manifestanti. Le proteste in Perù si sono accese però soprattutto nelle aree rurali, che erano la Roccaforte di Castiglio, ex insegnante e un po' nuovo volto della politica proveniente da un distretto molto povero montano nelle Ande. I manifestanti hanno dato fuoco a una stazione di polizia, hanno preso d'assalto un piccolo aeroporto utilizzato dalle forze armate e hanno marciato per le strade. Molti di questi sono sostenitori di Castiglio che hanno chiesto per giorni che il Perù tenga le elezioni piuttosto che permettere alla sua ex vice, Buluarte appunto, di rimanere al potere fino alla scadenza ufficiale del mandato di Castiglio che sarebbe stato nel 2026. Alcuni manifestanti hanno anche chiesto la chiusura del congresso, quindi dando forza a quella sorta di tentativo di colpo di Stato che lo stesso Castiglio ha effettuato. Ora questa è un po' la situazione, questi sono gli aggiornamenti, se volete una versione un po' più estesa e approfondita guardatevi la puntata di ieri in cui ne abbiamo parlato abbastanza approfonditamente. La cosa che mi colpisce è che evidentemente il Presidente Castiglio, nonostante questo tentativo di colpo di Stato, ha un grosso seguito in Perù, visto che appunto buona parte del paese, non buona parte, però una parte importante del paese si è mobilitata in suo sostegno. Tra l'altro mi avete anche scritto in diversi fra commenti YouTube e altro che il colpo di Stato avrebbe provato a farlo in realtà la leader dell'opposizione Keiko Fujimori attraverso le ripetute richieste di impeachment e non Castiglio che invece sarebbe vittima di una sorta di complotto. Ora onestamente non ho nessun elemento che possa suffragare in alcun modo una tesi del genere, anche se devo dire che l'esperienza mi insegna che spesso la realtà è più sfumata di come appare una prima lettura e anche versioni che possono apparire inverosimili hanno degli elementi di realtà, magari non il cento per cento, ma hanno degli aspetti che aiutano comunque avere una realtà lettura più complessa della situazione. Quindi su questo mi prometto e vi prometto di approfondire per capire meglio come stanno effettivamente le cose. Detto ciò io direi che noi ci possiamo salutare qua, io appunto vi saluto e vi do appuntamento a domani con un nuovo contatto di un mio rassegno, sempre a partire dalle 8 su canale YouTube, Spreaker e Spotify, nonché sulla pagina rassegna stampa e cambia.org e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.